Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli disposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena odì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di braccia con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse, seguimi. Parola del Signore. In queste domeniche di Pasqua la liturgia ci fa riascoltare tante parole e tanti eventi naturalmente post-pasquali, le cosiddette manifestazioni del Signore Risorto. E questo capitolo bellissimo di San Giovanni ci racconta di una pesca miracolosa nella notte, o meglio nell'alba dopo una notte infruttuosa e soprattutto direi ci racconta di un dialogo con Simon Pietro bellissimo. In un contesto di grande intimità, pieno di riferimenti eucaristici, dove Gesù prende il pane, lo dà loro e così pure il pesce, gli ha preparato la colazione, Gesù risorto, mangiano insieme come era successo prima di Pasqua. E tutti si guardano negli occhi stupiti e meravigliati di vedere il Signore vivo in mezzo a loro. Poi Gesù prende da parte Simon Pietro che per tre volte aveva, sappiamo, negato di conoscerlo. Si era tirato fuori dal gruppo, si era distaccato da Gesù e per tre volte Gesù gli chiede, Simone figlio di Giovanni mi ami più di costoro? Pasci i miei agnelli, le mie pecore. Ecco, non solo diciamo per recuperare i tre rinnegamenti Gesù fa questo dialogo, ma proprio per ricordare a lui e a noi che seguire Gesù ed essere nella Chiesa non è una questione di lavorare per, non è un incarico di ufficio, stare nella Chiesa non solo come pastori, ma come cristiani, come discepoli, si radica, si fonda su questo amore. Mi ami tu più di costoro? È proprio perché amiamo Gesù che ci prendiamo cura delle altre persone, è perché amiamo Gesù e ci lasciamo amare da Gesù, che possiamo impegnarci nella comunità, nella Chiesa e nel mondo per costruire il Regno di Dio, ma se perdiamo questo contatto col Signore, se non alimentiamo questa relazione di amore con Lui, se non ci lasciamo amare e servire da Lui, è chiaro che tutto il nostro impegno diventa un attivismo vuoto, diceva Don Oreste Benzi, che penso tutti conosciamo, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, il Signore non ha bisogno di carrettieri, di operai che lavorino per Lui, ha bisogno di innamorati. Nell'Eucaristia questo amore si fa pane, si fa vino per noi, per le nostre notti in cui non abbiamo preso nulla, per le nostre vite, a volte così fragili e così potrebbero sembrarci anche banali o affannate, nell'Eucaristia il Signore continua a dirci, mi ami tu più di costoro? Pasci le mie pecorelle, prenditi cura delle persone.